L'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Sala Consilina non chiuderà dopo la soppressione del Tribunale. L'ordine salese infatti, insieme ad altri 16 che in seguito della nuova geografia giudiziaria hanno visto sopprimere il loro Tribunale di riferimento, Avezzano, Bassano del Grappa, Casale Monferrato, Chiavari, Crema, Lanciano, Lucera, Melfi, Montepulciano, Onicosia, Rossano, Sanremo, Tortona, Vasto, Vigeva, Novoghera resteranno in vita fino a dicembre 2016, data entro la quale poi, secondo l'ordinamento della professione, si dovrà procedere al voto per il loro ninovo, con una geografia professionale a quel punto modificata. Salvo colpi di scena è questa, secondo fonti vicine al Ministero, la strada per sbrogliare la matassa dell'abbinamento tra l'organizzazione della professione e la nuova giurisdizione voluta con il decreto legislativo 155 del 2012. Per quanto riguarda invece l'ordine degli avvocati di Sala Consilina, dal 1 gennaio del 2015 si fonderà con quello di Lago Negro.